prossimo. Frecciatina pesantissima. Dopo dieci anni di gastrite deve essere dura per te, ti capisco. Fa così, è dura vincere soltanto sul campo. Altra frecciatina. Sempre lui, non ti riprendi più. Il Napoli vince lo scudetto proprio quando te ne vai, forse anche a merito di Mario Rui che ora fai cross come si vive. E Fa così, che riprende il vero significato di difendere la città, forza Napoli sempre. Purtroppo non sai cos'è amare una città come il Napoli, va al di là del calcio. Lo auguro a tutti voi di amare ed essere amato, quanto Napoli a me e io a Napoli. Quando la gente capirà che il Napoli è solo amore. Non so voi, ma io ho veramente i brividi. Io Fa così ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo ed è veramente un pezzo di pane. Una persona buonissima che ha dedicato la sua vita al fare il bene alle altre persone e alla sua famiglia, che ama Napoli genuinamente. Ed è ovvio che tanto di quello che stiamo facendo oggi è anche merito suo.